Un secondo ambito di intervento ha invece a che fare con l'estensione dell'utilizzo del Green Pass. Come sapete, col passare dei mesi noi abbiamo esteso l'utilizzo del Green Pass a tutta una serie di luoghi. Oggi facciamo un ulteriore passo in avanti ed estendiamo l'utilizzo del Green Pass in modo particolare agli alberghi ed è un modo per aiutare le nostre strutture ricettive, soprattutto ad affrontare i prossimi mesi, che saranno mesi chiaramente importanti, al trasporto ferroviario regionale e interregionale e anche al trasporto pubblico locale. Inoltre stendiamo questo utilizzo del Green Pass anche agli spogliatoi di tutte le attività sportive, anche di quelle chiaramente all'aperto.